buongiorno da obiettivo news oggi 28 aprile santa valeria di milano oggi è la giornata internazionale per la salvaguardia delle rane si concentra sulla protezione delle rane e degli altri anfibi che sono tra gli animali più a rischio a causa di cambiamenti ambientali e malattie sottolineando loro ruolo cruciale negli ecosistemi mondiali ideata l'associazione save the frogs a partire dal 2009 negli anni la portata di save the frogs day è cresciuta di smisura l'obiettivo di questa ricorrenza è sensibilizzare ed educare quante più persone possibili sulla conservazione degli anfibi che stanno letteralmente sparendo sotto i nostri occhi oggi è anche la giornata nazionale del cannolo siciliano e la giornata internazionale della crostata di mirtilli tra i nati in questo giorno abbiamo laura boldrini 1961 e oscar schindler 1908 tra le scomparsi ricordiamo benito mussolini 1945 e ciccio in grassia 2003